L'abbandono dei cani e dei gatti è un problema molto serio e purtroppo molto diffuso, soprattutto in corrispondenza delle classiche partenze per le vacanze. Nonostante le associazioni animaliste e gli enti pubblici locali cerchino da tempo soluzioni per arginare il fenomeno dell'abbandono di cani e gatti e organizzino spesso campagne per sensibilizzare l'opinione pubblica, il numero di animali domestici abbandonati continua a crescere e sembra veramente inarrestabile. La strada più facile, più economica, ovviamente più crudele e disumana è quella dell'abbandono. Nel momento in cui si prende un cane e si adotta si deve essere anche consapevoli che ci saranno delle spese da sostenere, oltre che spese di sostentamento, spese veterinarie, anche spese di gestione nel momento in cui noi non saremo presenti a casa o comunque fare vacanze che possano consentirci di portare gli animali con noi, quindi presso strutture organizzate. Ripeto, se non si vuole sottoporre il cane ad un viaggio magari stressante particolarmente lungo, ci sono tante pensioni per animali gestite da anche volontari che ne hanno fatto un lavoro, ovviamente queste sono cose da programmare per tempo, in modo da far abituare anche il cane a una frequentazione di quelle che saranno le persone che poi lo gestiranno nel nostro periodo di vacanza, ma abbandonare un animale che abbiamo scientemente deciso di adottare dobbiamo renderci conto che non sono peluche, altrimenti si va in un negozio specifico e si acquista il peluche. Le ragioni per cui molti cani e gatti vengono abbandonati sono numerose e di varia natura. Una delle motivazioni principali per cui tanti proprietari decidono di disfarsi del proprio animale è la mancanza di consapevolezza dell'impegno che un animale richiede a livello emotivo, di tempo economico e di responsabilità. A volte si tratta di adozioni del cuore che non tengono conto del fatto che accudire un animale, provvedere alle sue necessità e adattare ai propri stili di vita sia un dovere quotidiano e imprescindibile. Purtroppo c'è una forma di ignoranza radicata che non riusciamo ad arginare completamente, sicuramente c'è molta più sensibilità anche grazie alle associazioni che andando nelle scuole, facendo anche tante attività social che è fondamentale per far capire alle persone l'importanza di gestire in maniera idonea i propri animali. C'è sempre lo zoccolo duro di una parte di esseri umani, io li chiamo i cavernicoli, che non hanno alcun rispetto della vita di altri esseri viventi. Io dico sempre che non avendone per gli animali non ne possono avere nemmeno per gli esseri umani.